E' a dir poco preoccupante la fotografia scattata dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti relativa al fatturato delle aziende piacentine, S.P.A. ed S.R.L. nel primo semestre dell'anno. Il dato emerge dall'osservatorio sui bilanci delle S.R.L. 2018 e stime 2020 che ha misurato l'impatto dell'emergenza Covid e il relativo lockdown sul fatturato delle società di capitali nei primi sei mesi dell'anno. Secondo l'analisi, Piacenza, con un calo certificato del 22%, si assesta al quinto posto in regione nella classifica delle province maggiormente colpite dal lockdown. La prima posizione è occupata da Reggio Emilia, meno 23,6%. A livello nazionale, invece, le aziende S.P.A. ed S.R.L. nel primo semestre dell'anno hanno perso qualcosa come 280 miliardi di euro, fatturato in calo del 19,7%. Nell'analisi sono considerate circa 830.000 società italiane che fatturano complessivamente circa 2.700 miliardi di euro. A livello di macroarea, la maggior sofferenza si avverte nel nord-est, meno 21,3%, mentre le isole, meno 17,6%, fanno registrare la minor perdita in termini di variazione percentuale. Nel dettaglio emerge come nel solo mese di aprile, unico ad essere sottoposto interamente agli effetti della fase 1 del lockdown, la perdita di fatturato calcolata sulla base delle simulazioni descritte è pari a 93 miliardi di euro, meno 39,1%.